ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo nell'episodio di oggi vedremo un hamilton hamilton khaki aviation pilot pioneer mechanical un nome tanto lungo che nemmeno la contessa servelloni mazzanti viene dal mare potrebbe competere con questo nome quello che fa specie è che viene inserito questo orologio nella famiglia degli aviation per me come orologio d'aviazione ha ben poco ha ben poco lo vedrei più come un orologio da field chiaramente se non fosse che a quei 100 metri di impermeabilità che ben vengano che ben vengano anche se è inserito nella collezione aviation questo poi a noi non ci deve tangere più di tanto se un orologio è bello il suo nome lascia un po il tempo che trova nessuno poi lo chiamerà con quel nome lì lunghissimo ho deciso di provarlo perché 36 mm rappresentano quella misura compatta che va bene sia sui polsi come i nostri da 19 cm di circonferenza che su quelli un pochino più contenuti ed è una misura che spesso gli amici appassionati bramano cercano un orologio da 36 e allora eccolo qua a disposizione è lì e perché l'ho preso perché mi piace innanzitutto ma anche perché poi sono passato lì l'ho visto in vetrina e ho detto di questo non ho ancora parlato quale quale per quale motivo non ne ho ancora parlato in tutto questo tempo l'ho visto rivisto stravisto e non l'ho mai preso in considerazione prendilo e porta la casa dove l'ho preso chiaramente dall'amico giacomo titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale e vi offre un trattamento di favore a voi che state guardando e a me mi presta gli orologini come in questo caso quindi lo portiamo sul canale anche se non è un orologio di recente uscita no è già qualche mese che fuori se non di più però io l'ho visto ora ho deciso di portarlo ora è carino dai prima di mostrarvelo però vi faccio vedere l'orologio del giorno che è questo bellissimo brightling chronomat orologione con 40 mm di diametro cassa il suo bellissimo bracciale volo è uno dei miei ultimi acquisti e me lo sto godendo lo sto indossando il più possibile per dargli un senso nella vita no poi lui in cassa poverino il calibro 28 93 bajetta quindi non è nemmeno tanto esclusivo e quindi per farlo sentire un pochino importante lo indosso più degli altri no poi chiaramente dopo un po finirà la da parte con gli altri che si litigano per salire sul polso e a quel punto dovrò fare delle decisioni no prima uno poi l'altro ma questi sono questioni personali che non intendo condividere con voi con voi voglio invece condividere l'orologio del giorno lì che ho portato sul canale quindi giriamo la camera e ci vediamo qua dopo per le solite considerazioni finali iniziamo con il sciorinare i risultati delle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 36 mm spessore 9.7 ingombro trasversale al polso 41.6 e interasse ansa da 18 mm non ci sono dubbi si tratta di un orologio piccolo un 36 mm adatto sia a chi ha un polso contenuto sia a chi ha un polso importante in dimensioni ma che predilige l'eleganza degli orologi classici ciò che lo rende appetibile a differenza di altri orologi compatti è lo spessore solamente 9.7 mm questo dato fa in modo che le proporzioni risultino equilibrate e coerenti troppo spesso si punta al diametro contenuto senza preoccuparsi dell'effetto tombino qui non c'è e a tal proposito parlo subito del cinturino in dotazione è ovviamente di ottima fattura morbido con doppie cuciture e con dei rinforzi in pelle laddove l'usura è solitamente maggiore ossia in corrispondenza dei fori e sull'estremità libera ultimamente preferisco indossarli come single pass in quanto vanno ad ingolfare meno l'aspetto al polso ed anche qui ho optato per questa soluzione che ingentilisce la silhouette e diminuisce l'altezza sul polso poi uno può decidere in autonomia e suggerisco di provare ad utilizzare qualche cinturino in pelle in quanto mi sembra piuttosto eclettico come orologio e sono convinto che gli si possa abbinare qualsiasi stile anche perché nonostante sia collocato dalla casa nell'ambito militare a me pare molto più civile di molti emilton che abbiamo visto sul canale di sicuro le specifiche militari non prevedono un quadrante bianco anzi è una tonalità troppo visibile fuori luogo rispetto alla ricerca della mimetizzazione ed è proprio per questo che l'ho scelto perché va a collocarsi in ambito civile pur mantenendo alcune caratteristiche peculiari degli orologi militari il bianco del quadrante non è uniforme lo si vede anche ad occhio nudo ma ingrandendo le immagini si possono notare i dettagli della finitura granulosa che lo compongono completamente opaco rugoso ruvido e al contempo piattaforma ideale per una buona leggibilità si vede chiaramente come i numeri arabi riescano a stagliarsi nitidamente in superficie riuscendo così a garantire la lettura ideale il fatto che non sia presente alcuna finestra data non fa altro che accentuare l'equilibrio globale di un quadrante che a parer mio rappresenta quasi l'ideale perfetto di simmetria l'unico punto che mi fa titubare è rappresentato dall'assenza del 12 al colpo d'occhio sembra quasi mancare qualcosa si scorge una sorta di spot vuoto che è invece utilizzato per il marker triangolare questa scelta può essere interpretata anche come un colpo di originalità che lo discosta dai soliti field watch con quadrante tutto numeri di certo il marker triangolare è funzionale in assenza di luce ci restituisce la corretta luminescenza così come le sfere e i piccoli indici sul rio direi che per la tipologia siamo ad un livello più che sufficiente apprezzo poi la scelta di aver limitato le diciture a due semplici scritte hamilton mechanical pulizia di quadrante ed assenza di fronzoli superflui per quanto riguarda lo stile della cassa ci troviamo di fronte alla tipica forma a cuscino abbiamo visto in passato che non è sufficiente questa definizione per fotografare uno stile ed infatti qui abbiamo una cassa a cuscino che pare nascere da un monoblocco d'acciaio i livelli tridimensionali sono essenzialmente tre lunghezza per larghezza per altezza lo si vede chiaramente alle hanse che con la loro ridotta estensione mettono in evidenza gli spigoli vivi dell'acciaio sia ben inteso che una superficie di transizione c'è tra la parte superiore e il lato carur ma è talmente ridotta e dolce da non poter essere presa in considerazione né come bisello né come elemento che va ad intaccare la sensazione di parallelepipedo dell'orologio stesso ci sono poi da segnalare alcuni dettagli rimarchevoli il vetro sporgente è privo di lunetta e fissato direttamente alla carur due considerazioni lo spessore senza vetro è di soli 7 mm e come si sa è quella l'altezza visivamente percepita inoltre pur essendo privo di lunetta di fissaggio l'impermeabilità dichiarata è di 100 metri un dato notevole per la tipologia di orologio e per le dimensioni generali anche perché la corona è a pressione e non poteva essere in altro modo si tratta di un orologio a carica manuale un orologio che va caricato ogni giorno e lo svitare e riavitare la corona avrebbe rappresentato uno stress meccanico inutile inutile in quanto è possibile raggiungere quel dato utilizzando solamente delle buone guarnizioni e a tal proposito anche il fondello mostra una insolita configurazione non è tondeggiante ma di forma simil quadrata e fissato con quattro semplici viti scelta che solitamente restituisce la sensazione di possibile limitata resistenza alle infiltrazioni ma se è presente su di un orologio dichiarato 10 atmosfere evidentemente non è così è inoltre cieco cosa rara per gli emilton di ultima generazione con delle semplici e spartane incisioni riportanti alcune specifiche al di sotto troviamo il calibro h50 con spirale in ivacron elemento antimagnetico per definizione fa parte della serie di movimenti con 80 ore di riserva di carica e come suo antenato vede l'eta 2801 21.600 alternanze orarie 17 rubini e spirale libera a regolazione inerziale un calibro che praticamente equipaggia tutti gli emilton solo tempo a carica manuale possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali come si è visto un 36 mm che sta bene al mio polso compatto bello contenuto e se sta bene sul mio polso del 19 centimetri starà bene su qualsiasi altro polso cioè è un orologio per tutte le dimensioni come si suol dire poi cos'è può essere considerato il classico everyday watch senza pensieri perché 100 metri di impermeabilità lo trasformano in un orologio che non ha paura di nulla che non si può utilizzare in qualsiasi situazione così come la cassa che pure essendo più piccola compatta è massiccia e poi tutta satinata opaca quindi i graffi non li teme o meglio i graffi ci sono sempre ovunque ma quando una cassa è satinata sono meno visibili per cui un orologio quasi perfetto ho detto tutti i punti positivi ci sarà qualche punto negativo ci sono i punti negativi in primis il cinturino perché giunge con un nato che è pur ben fatto di qualità tutto quello che volete anche bello a vedersi come avete visto io ne indosso single pass perché me lo rende un pochino più elegante al polso pur essendo ben fatto si sarebbe auspicato in questa fascia di prezzo magari un bracciale con un cinturino in pelle no a parità di prezzo il valore intrinseco sarebbe stato maggiore uno con un bracciale poi dopo decide di metterci un nato costa quasi niente un nato lo si prende lo si mette e via questo però porta poi anche al fatto che uno può giocare con i cinturini aftermarket perché a parer mio questo qua è un orologio che è uno strap monster come si dice è praticamente un orologio che con qualsiasi tipo di cinturino ci sta bene e anzi cambia volto a seconda della scelta stilistica che uno vuole fare e questo sta a voi sta a noi ognuno con il proprio gusto può dare un volto a questo orologio però il punto debole più forte più elevato è che il vetro è minerale è un semplice vetro minerale cosa che in questa fascia di prezzo è un pochino strana a vedersi è però emilton ci ha già abituato anche con altri modelli mi sembra già successo quindi questo cosa vuol dire che non è un orologio da comprare dovete fare i conti con questa io non lo comprerei dovete fare i conti con questa con questa con questo minus come dicevo è un everyday watch è un everyday watch quindi voi utilizzate ma dovete sapere che dopo anni no non so quanto quanto tempo sarà dopo anni ve lo ritroverete come fosse un 6.5 cioè con il vetro graffiato la cassa graffiata quella qualsiasi cassa si graffia però in un determinato tipo di condizioni perché se lo userete ogni giorno come orologio da tutti i giorni il vetro minerale non è resistente come il vetro zaffero quindi dovete valutare voi se vale la pena avere un orologio bellino compatto robusto 100 metri che se ne vedono pochi che ha l'effigie di quelli vintage ma che ha il vetro minerale questo è un grosso minus dell'orologio boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 musica